Il crescente interesse per gli strumenti dell'universo SRI negli ultimi anni è dovuto in particolare alla volontà degli investitori di avere un maggiore grado di sostenibilità nei propri portafogli. Ciò che è importante in questo senso non è solo ciò che le compagnie fanno in termini di prodotti o servizi, che nel nostro caso significa ricercare aziende che forniscono soluzioni a problematiche ambientali, ma anche come raggiungono questo risultato. Ciò che facciamo è un'analisi integrata delle politiche ambientali, sociali e di corporate governance delle società. In più la composizione del portafoglio è fortemente dedicata a prodotti sostenibili e soluzioni ambientali. Tale composizione permette di ottimizzare le performance, dato che è dimostrato che le compagnie con un focus su queste tematiche e che hanno in più un'eccellente corporate governance tendono ad essere premiate in termini di quotazione azionaria. Le caratteristiche del Parvest Climate Impact Fund sono estremamente chiare. Tutte le società in portafoglio sono presenti per una ragione particolare, che consiste o nel fornire soluzioni a problemi ambientali o nel mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Questo è il cuore del nostro portafoglio di 60 titoli. Un'altra caratteristica molto importante del fondo è la misurabilità dell'effettivo impatto delle aziende in portafoglio in termini ambientali. Questo ci consente di fornire dati precisi ai nostri investitori. A fronte ad esempio di 10 milioni di euro di investimento nella strategia, siamo in grado di quantificare l'ammontare di acqua risparmiata o trattata, la quantità di materiale riciclato o la quantità di energia rinnovabile prodotta. Un'altra importante caratteristica è relativa al rischio. Il complesso delle compagnie presenti in portafoglio ci permette di avere un ottimo rapporto rischio-rendimento. Abbiamo un tracking error riferito al rischio azionario e non superiamo mai un dato livello di volatilità o un dato valore al rischio o beta. Questo è molto importante poiché i nostri clienti si possono sentire sicuri della sostenibilità e riproducibilità del nostro processo di investimento. Abbiamo ricevuto molti riconoscimenti per l'attività di Impax in questi 20 anni. Tutti i prodotti che offriamo, in particolare nella nostra collaborazione con BNP Paribas, sono dedicati agli investimenti ambientali e sostenibili, con una particolare attenzione alla corporate governance. I risultati ottenuti in termini di performance sono stati considerevoli e per questo le istituzioni e i nostri clienti hanno mostrato un forte apprezzamento per l'intera formula di investimento adottata. Se guardiamo in particolare all'attrattività del ritorno per il rischio che siamo riusciti ad ottenere con costanza, i nostri investitori hanno percepito una concreta possibilità di sostituire prodotti Global Equity Plain Vanilla con soluzioni SRAI, perché il ritorno per il rischio è molto simile. Questo ha portato a una forte crescita degli asset, grazie alla loro complementarità con il complesso delle strategie dei nostri clienti.